buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video di bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione ciao amici buongiorno e bentornati sul canale dei bancomatti sono michi e vi do il benvenuto allora 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 oggi ancora concorso ma uno di quei concorsi che in questi tre natali a venire non dico che hanno fatto contenti una marea di famiglie ma di più c'è qualcuno che ha vinto non so macchine telefonini bottiglie c'è davvero questo concorso è uno dei più validi che si presenta sotto natale e uno con le vincite reali messe appunto pubblicate sul web c'è davvero tanta 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 credibilità parliamo di s lunga il nostro amico francesco ci ha fatto presente che il giorno 13 di dicembre partirà il nuovo concorso s lunga facciamoci sotto con la sedia che qua c'è tanta 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 roba allora ogni giorno capiamoci bene ogni giorno una persona vincerà un iphone xr siamo capiti ok ce ne sono in palio 55 in più verranno regalati oltre un milione di premi ok il concorso s lunga di natale 2018 parte il giorno 13 dicembre 2018 per partecipare dovrei avere la carta fidati che alla solida è la carta fedeltà dell' s lunga che puoi richiedere gratuitamente al punto fidati queste sono cose facili che riusciamo a capire al volo poi facendo la spesa da s lunga potrai ricevere le cartoline gioca e vinci in cui appaiono 6 caselle se 3 di queste 6 caselle saranno uguali avrai vinto il premio corrispondente quindi ci saranno delle immaginette con questa modalità si vinceranno un milione di premi poi 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 e qua arriva il bello prendi la tua casellina cartellina cartolina grattata la metti da parte poi scarica la app di s lunga sul tuo telefonino utilizzala per scansionare il codice a barre della cartolina che hai grattato però la gioca e vinci scoprirai se hai vinto subito uno dei 55 iphone praticamente tu gratti la cartolina e vinci non vinci perché prendi il tuo telefono fai col codice guardi sei vinto prendi il tuo telefono e lo tiri contro il muro perché tanto ce n'è uno nuovo non lo fate che i bancomatti non rimborsano niente poi infine acquistando due prodotti evidenziati a scaffale otterrai punti fragola triplicati che gli serviranno per sconti richiedere premi e quant'altro 13 dicembre fino al 31 dicembre giusto per festeggiare le feste alla grande mi lascio il link di quest'articolo qua sotto allora ringraziamo francesco di sconto maggio che ci ha segnalato questo concorso e ringraziamo esse lunga perché ogni anno tira fuori dei premi esagerati alla fine mortacci loro io la macchina non sono riuscito a vincerla uno o due anni fa e me la sono dovuta comprare a rate per non so quanti anni vabbè comunque ci provo per il telefono a parte quello ragazzi vi mando un grandissimo saluto e ringrazio come sempre per stare qui con noi fate viaggiare un po di pollicini se i video ci stanno dentro condividete tu li conosci i bancomatti un po solita roba da pr va bene dai a parte questo un che svegli a bancomatti un saluto ad amici da pulsera e dalla banco famiglia ciao ehi grazie per essere arrivato in fondo a questo video se clicchi sul pulsante qua di fianco attivi l'iscrizione e clicchi sulla campanella noi bancomatti saremo sempre felici di avvisarti su un nuovo episodio una nuova promo o un'altra modalità per risparmiare rimani con noi ciao ciao